Coromì, buongiorno, anzi, arrivo un giorno per la terza voi. Senti, allora mi ha detto l'auto, tutto a posto, ti stai mangiando una fettina di anguria. Buona, 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 così ti rinfreschi un po'. Ma quella sua ragata cos'è? Mamma mia, quanti abbracci e quanti baci gli dobbiamo dare. Va bene, va bene, sono contento. Beh, abbiamo terminato, cuore, domani un giorno e siamo a posto, abbiamo finito. Capito? No, stati tranquillo, rilassati, ripostati in pace, passa con tranquillità questa giornata, fai qualcosa, tanto capito che vuoi vedere, vuoi accertare. E niente, come hai detto tu, accertati di quel romano là, che cosa ha combinato. Secondo il mio punto di vista, e tu sai benissimo che, secondo me, tu concordi anche con me, ci sta lo zampino del vermiciatolo. Però, quella è un'altra cosa che va sistemata, non è che li possiamo lasciare là, cuore. Eh, eh, sicci, non ho capito, che facciamo, seminiamo? Seminiamo un po' là, un po' là, un po' là, che facciamo qua? Eh, e quindi informati. Oh, ma voglio dire, scusa, tanto ho capito, fammi... Qual è il problema? Digli, hai avuto già qualche chiamata? Eh, quindi voglio dire, verifica con tranquillità, ovviamente, e senza minimamente innervosirti o agitarti, perché eventualmente troveremo un'altra soluzione. Certo, dobbiamo cercare una persona dove lui, con cui lui non può avere contatti, questo sicuramente. Eh, ma questa cosa forse abbiamo sbagliato anche noi, perché forse manco lo dovevamo contattare quello, perché sapevamo che doveva essere contattato dal verme. Vavo, approfondisci, cerca di dichiarire, non so se è possibile avere sincerità da parte del romano, questo solo tu puoi saperlo. E niente, stati tranquillo, mi raccomando, con molta serenità a fare le cose, cioè non ti devi minimamente agitare, perché ricordi sempre che al primo posto viene la nostra salute su tutto e su tutti. Capito? Capito? Beh, guardiamo, ci sentiamo dopo, ti do un abbraccio, un cuore di tuo fratello e un bacio. Beh, e aggiorna, mi dà, fammi sapere, Dubai, Dubai, bella Dubai, poi ci andiamo. Ciao cuore, ciao.